Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza Vediamo se è già arrivato il giorno, no, abbiamo iniziato di notte anche oggi, però per poco Ragazzi, oggi ci dobbiamo occupare di un'altra novità della 1.13 Abbiamo già trattato, ma che verrà usata in un modo particolare Perché finalmente torneremo ad occuparci dell'Empire Blaze Building Vicino il quale abbiamo messo uno dei tre waypoint nello scorso episodio Se non l'avete visto, andate a vederlo perché questa funzione delle mappe è fighissima L'abbiamo fatto nell'ultimo episodio Di che cosa sto parlando, ragazzi? Allora, il nostro grattacielo è stato l'ultimo progetto nato prima dell'arrivo della 1.13 E come vedete... no, non lo vedete perché è coperto Come vedete, è lì che troneggia sulla collina, vicino alla zona futuristica È un grattacielo con stile futuristico, d'altronde Ed è davvero motivo d'orgoglio per me È molto, molto carino, elegante Ma ha un grossissimo problema Non è possibile salire Perché non abbiamo fatto delle scale E abbiamo pensato di fare degli ascensori Ora che è arrivata la 1.13 Che abbiamo già esaminato molte novità Possiamo finalmente installare un ascensore nel grattacielo E come si fa un ascensore? Semplicemente possiamo utilizzare le bolle E oggi andremo a fare esattamente questa cosa Quindi per fare tutto ciò, ragazzi Abbiamo bisogno di un bel po' di materiali adatti Io direi, quindi... Che cosa ho usato? Ho usato la dark hook o la bete? Perché ho usato la bete, non la dark hook Quindi mi serve un po' di legno di abete Il problema è che... Sì, ne ho, ma neanche troppissimo Quindi dubito che basterà Comunque iniziamo a prendere quello che abbiamo Iniziamo a capire come fare la nostra ascensore Non sarà per niente semplice Ci serviranno un sacco di secchiate d'acqua In teoria questi due materiali Premesse doverose Non sarà l'ascensore più veloce possibile Non sarà la più efficiente Bla 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 È una semplice meccanica introdotta dalla 1.13 Quindi le colonne di bolle Generate dai magma block Attirano entità ed oggetti Verso il basso Mentre... Che poi gli oggetti, i drop Sono alla fine delle entità loro stessi Però tralasciamo questo Mentre una colonna di bolle Generata dalla soul sand Spinge tutto verso l'alto Con questi due principi Noi possiamo incanalare Delle colonne d'acqua Con da una parte la soul sand E dall'altra i magma block In questo modo creare degli ascensori Che ci portano su e giù dal grattacielo Tant'è che avevo predisposto Come vedete dai buchi Che tagliano perfettamente La struttura nella parte centrale E che dovevano servire Come appunto buco per l'ascensore Ma c'è forse un piccolissimo problema Non sono sicuro che due colonne d'acqua Possano essere messe L'una di fianco all'altra In questo modo Cioè non vorrei che poi le colonne di bolle Non d'acqua si vadano in qualche modo A rompere le scatole l'un l'altra Bisognerebbe fare un test Anzi facciamo Quindi proviamo ad andare Per esempio Qui sul fondale Molto in profondità Ecco qui va già bene Prendiamo quindi la soul sand E prendiamo il magma block Il magma block Come abbiamo già detto Tira tutto verso il basso Si stanno generando le bolle E crea appunto la colonna Che ci serve E la soul sand Spinge verso l'alto Perché si è buggata la luce? Questo non l'ho capito Però le due colonne Si sono create Ah si è buggata la luce Perché ho coperto La sorgente del magma block Giustamente Le due colonne si sono Create Ma che cosa vuoi Managgia te Vai via Vai che ora è tornato Dragon Stayer Quindi non fotti con me Ma se vuoi ti tiro anche Una tridentata Senza troppi particolari problemi Non è che mi ha droppato qualcosa Ah tra l'altro Avevo l'effetto del conduit Comunque stavo dicendo Che dovrebbero funzionare Lo stesso Vedete questa mi spinge su Se mi sposto di qui Mi tira giù Ok si funziona Bene Quindi possiamo fare due ascensori vicine L'altra soluzione sarebbe stata Semplicemente Quella di mettere solamente La soul sand Quindi l'ascensore verso l'alto Perché l'ascensore verso il basso È una cavolata Puoi semplicemente Dropparti in un buco Atterrare nell'acqua E sfruttare la gravità Come ascensore Però visto che funziona Possiamo fare Con le due colonne di bolle Giusto per completezza Quindi direi di cominciare Dalla cima Questo grattacielo Arriva fino all'altezza massima Ma non ha Diciamo Una parte vivibile O comunque un ascensore Anche nelle ultime sezioni Se non erro perlomeno No invece l'avevo fatto fino qui Quindi si può arrivare all'ultimo piano Ma appunto Non puoi arrivare in cima proprio Ma ti fermi appunto Su questa sorta di antenna Quindi quello che dovremmo fare Sarebbe Chiudere In qualche modo L'ascensore Rispetto Al Al Il resto Diciamo Eren ma non sei capace di parlare Cosa stai dicendo Avete ragione sulla prima cosa La seconda però Ha un senso Perché se noi Droppiamo un attimo qui Cosa succede Che noi dobbiamo incanalare Due colonne d'acqua L'acqua spread ovunque Quindi la dobbiamo bloccare In queste due colonne Abbiamo due problemi Uno Per bloccarlo Possiamo utilizzare Blocchi fisici Oppure cose tipo Cartelli Il problema È che se uso i blocchi fisici Il pannello di vetro Mi si attacca così E diventa un po' Una schifezza Quindi forse dovrei Sostituire O i pannelli Con dei blocchi Oppure mettere dei blocchi Di vetro colorato E via così La seconda cosa È che se io metto Un ascensore In questo modo Vado a Troncare Gran parte Dello spazio Quindi non avrei più spazio Per nient'altro Diciamo che queste ultime Sezioni del grattacielo Non Non conviene Mettere un ascensore Cioè potrebbe essere Davvero una pessima idea Quindi Non saprei che cosa fare Esattamente Perché anche qui Vedete Cioè se io avesse un ascensore Qua bloccherebbe Tutti gli spazi Non avrebbe più senso Avere questo spazio Ovviamente Non è che Abbia un particolare senso Questo grattacielo Non lo utilizziamo Per far niente Quindi voglio dire Non è che Sia indispensabile Occhio Non cadere troppo Però allo stesso tempo Mi dispiacerebbe Quindi come ce la possiamo gestire Bella domanda Si potrebbe arrivare fino a qui Ah nel mentre cerco Di arrivare Al piano ideale In cui fermarci Con l'ascensore E credo sia questo Il piano ideale Perché qui c'è un sacco di spazio E poi probabilmente Dovrei proseguire Con delle scale normali Non so esattamente Come fare Perché Un po' mi dispiace Non completare un ascensore Su tutti i piani Però non ha senso Occupare tutto lo spazio Con l'ascensore Basta Non so se mi spiego Quindi iniziamo a fare una parte Poi se voglio ampliarlo C'è sempre tempo di farlo Nel mentre Quindi Imposto La forma dell'ascensore Che essenzialmente Sarà Così In realtà posso usare La dark oak Perché rimane dentro Nell'ultima puntata Dicevo Ho fatto una proposta Un po' indecente Vi ho chiesto Se vi sarebbe piaciuto Un nuovo inizio Nella serie Dove per nuovo inizio Oh mio dio Stavo Perché stavo laggando Tra l'altro Boh Comunque per nuovo inizio Si intendeva Non Un nuovo mondo Non cambierò mai Questo mondo Ragazzi Ve l'ho già detto Si intendeva Di spostarci Da un'altra parte E incominciare In una nuova base Senza oggetti Senza nulla Ricominciare proprio Magari addirittura Mi andrei ad uccidere Settando uno spawn Con il letto In modo da perdere Anche l'esperienza E ricominciare da zero Penso sia un'idea Che potrebbe piacere E ho visto che Alla maggior parte di voi È piaciuta Siamo sul 75% sì 25% no Questa è più o meno La percentuale Quindi ci devo pensare Un attimo su Però Effettivamente Potrei valutare L'idea Di prendermi Un attimo Una parte Della Delle episodi Che verranno Perlomeno E ripartire da capo Riprovare questa esperienza Con ovviamente La possibilità Di tornare Quando vogliamo qui Perché comunque La base qua rimane Però Comunque Sarebbe figo Poter ricominciare Perché ci sono Parti del gioco Che ormai Non ha più senso Affrontare per noi Perché abbiamo tutto Quindi non ha senso Per dire esplorare Le caverne O fare cose di questo tipo E un po' mi mancano Quelle fasi inizie Pensiamoci sopra Potrebbe essere Un'idea carina Per il futuro Quindi io ve l'ho proposta Ho visto più o meno Cosa ne pensate E nulla Quindi ci tenevo a dirvi Che ho visto E che ci ragionerò sopra Per ora Però direi di pensarle Il presente Perché abbiamo ancora Tante cose da fare Allora L'ascensore Qui sembra Orientato in modo Diverso Rispetto all'ingresso Perché come sapete Le sezioni della Torre Sono Non sono una sopra l'altra Con esattezza Ma sono traslate Quindi anche l'ascensore Che rimane perfettamente Al centro Si trova A seconda dei piani In una posizione Apparentemente diversa Ma in teoria L'ingresso è da questa parte Quindi Le porte dell'ascensore Dovranno guardare Tutte in questa direzione Quindi cosa succede Succede che andiamo a fare Una cosa di questo tipo Quindi dobbiamo Semplicemente Chiudere Una parete alta 2 In questo modo E poi andare a tappare Anche un soffitto Ci serviranno un po' di porte Ed essenzialmente Questa è la struttura Che ci serve La possiamo abbellire E lo faremo sicuramente Ma iniziamo dalle basi Ah tra l'altro Ragazzi Prima che mi dimentico Abbiamo anche Aggiornato In 1 13.1 Non c'è niente Di particolare Di aggiunto Sono semplicemente Fix E ottimizzazioni Però vi dico Che abbiamo aggiornato Qui devo collegare Tutti i piani Sempre allo stesso modo Non servono gli angoli E lo devo fare Su tutti e quattro I lati Ovviamente Salvo poi Scendere E lasciare anche qui Uno spazio di due Perché qui Semplicemente Avremo le porte Che ci permettono Di fermarci Nei vari piani Quindi l'ascensore Deve permetterci Di raggiungere Cavoli ragazzi Mancava così poco E ho finito il legno Quindi andiamo al volo Nelle dark oak A tirare giù Almeno un alberello Per avere il legno Necessario per finire La struttura I dettagli Ovviamente Dovremmo poi aggiungere E soprattutto Anche le porte Che vorrei sempre farle Con la dark oak A questo punto Quindi andiamo a prendere Un bel po' di legno E poi torniamo con calma Legno preso ragazzi Torno a casa Facendo un salto qui Perché volevo rivedere Il mio tempio Della luna E poi volevo vedere Se il nostro fantasma Il carissimo Gorico Perché è fantasma Gorico È ancora qui Oppure è despaunato O cose del genere Ci sei? Gorico? Dov'è Gorico? Ah eccolo È ancora vivo Ciao Gorico Se vi siete persi Dell'episodio ultimamente Sì Sono riuscito a catturare Un phantom Ma gli ho dato un nome E ora abita il castello Perché ogni castello Che si rispetti Deve avere un fantasma E quindi ora ne abbiamo uno Comunque Niente È da un botto che Cioè da quando l'ho catturato Non penso di non averlo mai rivisto Quindi volevo Assicurarmi che stesse bene Andiamo ora in casa ragazzi Perché dobbiamo craftare le porte Vedere se magari ce ne ho Già qualcuna craftata Ma apparentemente no Ho qualcosa qui Ho qualcosa qui sì Quindi questi ce li prendiamo intanto E poi ragazzi E poi Mi sono scordato Ah devo prendere i bucket d'acqua Perché ci servirà un sacco d'acqua Ed eccoci ritornati Perfetto ragazzi Ora quello che dobbiamo fare È innanzitutto Scavare due buchi qui Quindi da una parte Ci sarà la salita Dall'altra La discesa Non saprei in realtà Se mettere La salita a destra E la discesa a sinistra Forse sì Perché prima ho fatto il contrario Non lo so che cosa Ha più senso Però vabbè Facciamo così Non è importante Poi prendiamo le porte Andiamo dentro Mettiamo le due porte In questo modo Le possiamo anche tenere aperte Questo lavoro delle porte Lo dobbiamo fare su ogni piano La cosa un po' più complicata E pallosa Sarà invece quest'altra Per cui mi tocca fare Una pozza d'acqua infinita qui Quindi come vedete Ho preso anche un po' di bucket Ci prendiamo l'acqua E poi dobbiamo andare A mettere l'acqua Nella tromba Dell'ascensore Per creare l'ascensore E le colonne di bolle Non posso mettere l'acqua in alto E farla colare Mi raccomando Così non funziona Bisogna purtroppo Mettere sorgente per sorgente Su ogni Fottuto Blocco Ci vorrà Un sacco Questa cosa Va fatta Assolutamente Se no non funziona È un po' pallosa Però non c'è Ecco già Così ho sbagliato Per dire Non c'è altra soluzione Devo fare così Poi devo fare così Vedete che si generano Già le bolle Quindi già vediamo Che funziona Mi sono preso Quattro bucket In modo da Poter iniziare A fare qualcosa Poi per il resto Per riempire E tornare giù A prendere l'acqua Sarà abbastanza easy Perché posso già Sfruttare Lo stesso ascensore Che mi permetterà Di salire e scendere È una bella rottura Di scatole Forse avrei dovuto Prendere più bucket Ragazzi Comunque Purtroppo abbiamo Anche questa cosa Ecco vedete che l'ho missato Perché quando saltelli È difficile Centrare Il punto preciso Comunque ce la dovrei fare Poi si torna giù di qui Si va Si riprende l'acqua E così via Tra l'altro Mi sono appena reso conto Che non avevo Neanche finito Perché arrivati qui Ragazzi Abbiamo un problema Che c'è un butto Quindi qua Tocca tappare per bene tutto Perché se no Come facciamo a contenere L'acqua dell'ascensore Andrebbe ovunque Non funzionerebbe Sarebbe un gran casino Quindi chiudiamo per bene Tutto quanto E poi Andiamo a completare Tra l'altro Questo piano terra È quello Col soffitto più alto Quindi è anche quello Un po' più complicato Da fare Per questo motivo Ok ragazzi Dovremmo quasi esserci Ora Non ho intenzione Di finire Ora tutti i piani Perché È altamente Pallosa Questa cosa Da fare È davvero un passatempo Noioso Deve essere sincero Comunque siamo arrivati qui Andiamo a mettere Le due porte Uno e due Le apriamo ovviamente Se riesco Perché sono un pochino Impedito al momento Andiamo a prendere Le ultime secchiate D'acqua E abbiamo Praticamente finito L'ascensore Funziona molto bene In discesa Il fatto di scendere Con l'acqua Vi ripeto Solamente Completismo In realtà Si poteva fare Una colonna D'aria Semplicemente Con dei cartelli Lasciar droppare Il player E mettere Semplicemente Una fonte d'acqua Alla fine Per non farlo morire Gli danno da caduta In questo modo Si poteva scendere Molto più velocemente Perché poi E la salita Con l'acqua In realtà È anche abbastanza veloce Comunque sia Ragazzi Per completezza E anche per estetica Direi di fare Tutto con l'acqua Abbiamo fatto Il nostro ascensore Bisognerà Vedere anche Come decorarlo Qui esternamente Perché per esempio Il fatto di vedere Le porte Che rimangono aperte Rimangono così Non è molto gradevole Io andrei a fare Già magari qualcosa Di questo tipo Quindi Una strutturina Con le scale Che possa sembrare Carina Sia quando Le porte Sono chiuse Sia soprattutto Quando sono aperte Non sembra molto La tromba di un ascensore Sembra più tipo Un camino Però non mi dispiace Al suo stile Quindi Direi che ci può stare Una cosa Semplicissima così Tipo ogni piano Facciamo questa struttura È carina come cosa Poi qui magari Ci possiamo appendere qualcosa Però lì Poi si parlerebbe Già di Dettagli D'arredamento interno E visto che non abbiamo Arredato nulla Del grattacielo Forse è anche un po' Inutile Mettersi a farlo In questo momento L'unico piccolo inconveniente È che quando Arrivi in basso Il magma block Ti dà un colpettino E in teoria Ti fa danno Io ho delle armature Così potenti Che non fa neanche in tempo A togliermi mezzo cuore Quindi a me interessa poco Però se dovreste mai Replicare questa Ascensore Molto semplice Tenete presente Che il magma block Se non vi shiftate Vi fa un piccolo danno Per il resto È abbastanza ingombrante Questo va detto Però penso che sia Molto calina Ma soprattutto Sfrutta una nuova dinamica Del gioco Cosa che a me piace molto Mi piace molto Sfruttare le novità Quindi ragazzi Spero che questo mini progetto Vi sia piaciuto Cercherò di Portarlo più in alto Ovviamente E qua fuori Piove Ma non è una tempesta Quindi non possiamo usare Il nostro tridente Quindi direi che per oggi è tutto Ci vediamo nel prossimo episodio Saluto da Eren Blaze Ciao a tutti